Come giudica la reazione alla sconfitta del segretario PD che ieri ha subito messo le mani avanti sul campo largo? È quella la strada? Io credo sia quella, credo che queste elezioni dimostrino che il PD ha capacità di tenuta ma che ovviamente da solo non basta perché nei ballottaggi non abbiamo capacità di espansione e quindi ovviamente finiamo per andare sotto ad aggregazioni che spesso sono anche aggregazioni innaturali di elettorato come è avvenuto nel comune di Campi dove il candidato più radicale appoggiato dai 5 Stelle ha vinto anche grazie ai voti della destra quindi chiaramente sulla base di un patto che sia un patto fatto sui temi, sulla sostanza e non sulle alchimie e sulle geometrie dell'ultimo minuto è necessario aprire un laboratorio e in questo laboratorio capire quali sono le cose che ci uniscono ai possibili alleati più che stare sempre a guardare quelle che ci dividono. A Pisa però questo esperimento c'era e non sembra aver funzionato, le chiedo anche quanto brucia la sconfitta di Campi che è anche il suo territorio? A Pisa non ha funzionato anche se il candidato che era un ottimo candidato che ha fatto una meravigliosa campagna elettorale ha avuto una capacità di ripresa davvero notevole. C'era un sindaco uscente apprezzato dalla città, sapevamo che era una sfida molto complessa, credo che si possa nella sconfitta, che ovviamente fa sempre male, essere contenti del risultato e della grande ripresa che il candidato insieme a quella coalizione è riuscito a fare. Credo però che per fare un'alleanza vera serva del tempo e adesso il tempo lo abbiamo, c'è un anno che ci separa dalle prossime amministrative, che sono amministrative molto importanti e abbiamo il tempo di costruire un'alleanza vera, che non sia soltanto un'alleanza di natura elettorale, una geometria, ma che sia qualcosa di più profondo, radicato e che ci veda interrogarci su quale costruzione vogliamo fare nei comuni dove ci presentiamo. Campi ovviamente brucia, brucia molto, dispiace, dispiace soprattutto perché c'è una classe dirigente del PD che avrebbe meritato di più. Quali sono le cause della sconfitta di Campi? Le cause della sconfitta di Campi sono cause molto locali, si è stratificato un clima e un'avversità molto forte fra le parti in causa, che ha radici molto profonde e anche che è arrivato oggi porta sulle spalle i rancori del passato. La nota positiva, la voglio dire, è che abbiamo aggregato in questa campagna elettorale molti giovani e ieri abbiamo avuto diverse nuove iscrizioni di ragazzi di 20 anni. Il centrodestra vincente ha subito messo le mani avanti sulla regione, tra le prime dichiarazioni anche del sindaco Conti ad esempio c'era proprio le elezioni regionali 2025, il percorso che lei ha appena delineato vale anche per le regionali? Vale assolutamente per le regionali, dove già in campo un'alleanza ampia che ci ha consentito di vincere e che ci sta consentendo di governare.